Musica Bentornato Gutier, bentornata Cominciamo ora un gruppo di lezioni che ci darà impegnati per diversi settimane e parleremo di reti cablate e wireless Andremo a pescare i bit Infatti parlerò di reti informatiche Cosa sono le reti? Partiamo con un giochino Hai mai visto qualche film basato sugli indiani? Quando dovevano comunicare tra loro, utilizzavano di norma dei segnali di fumo ed in caso di necessità, potevano far da ponte e ritrasmettere tali informazioni In pratica, di fatto, avevano creato una rete visiva di informazioni a pacchetti Altro piccolo esempio, un giochino Quando da piccolo o da piccola avrei giocato, certamente, a telefono senza fili nel quale si formava un cerchio di un numero abbastanza ampio di bambini ed il primo sussurrava una parola o una frase nell'orecchio del vicino alla sua sinistra A sua volta, egli ritrasmetteva l'informazione al bimbo, sempre alla sua sinistra per terminare il ciclo a forma di cerchio Al termine l'informazione impacchettata veniva annunciata e quindi si evidenziava il risultato anche se c'è da dire che durante il gioco naturalmente la linea era disturbata quindi l'informazione non veniva riportata Con questo piccolo gioco si era creata una rete informativa meccanica, quindi audio Questi due piccoli esempi per farti comprendere in maniera rapida che le reti informatiche altro non sono che una strategia per trasmettere, ricevere ed eventualmente ritrasmettere informazioni che nella fattispecie naturalmente sono pacchetti di bit Seppur spiegato in maniera molto semplicissima, questo è quanto Tramite una rete informatica, oltre che uno scambio di dati e informazioni sarà possibile condividere risorse software, quindi programmi, o anche risorse hardware Un programma che risiede su un computer centrale, come un server, può essere avviato ed utilizzato da più utenti nello stesso istante, a meno di limitazioni Un sito web può essere navigato da più lettori contemporaneamente Una stampante collegata a più dispositivi può essere utilizzata per stampare documenti presenti nei vari computer Questi esempi per farti comprendere le potenzialità di una rete informatica La più grande rete di computer esistente al mondo naturalmente è internet Non ci sono limiti di distanze Possedendo un dispositivo, il supporto per accedere alla rete, quindi innessioni, protocolli L'ardo è necessario, computer, dispositivi portatili, motor router per l'accesso, cavi e quant'altro Sostanzialmente sei pronto, sei pronta per creare la tua rete o accedere ad una rete preesistente Le reti possono essere suddivise in varie categorie Quelle più conosciute sono etichettate con questi termini LAN, Local Area Network, che si configura come una rete relativamente ristretta in termini di estensione La puoi immaginare come i computer all'interno di un ufficio, di un piano di un ufficio, un intero edificio, un gruppo di edifici Per fartela breve, ad un raggio molto limitato Immagina un piccolo quartiere di una cittadina Altro termine è One Wide Area Network Ossia una rete estesa su un'ampia area geografica, composta anche da varie reti LAN Le reti possono anche suddividersi in chiuse, quindi limitate alla sola zona di utilizzo Ad una cerchia ristretta di udenti, senza accessi all'esterno o dall'esterno Ed a volte anche protetta da credenziali di accesso, di udente o password Questo con lo scopo naturalmente di limitare sia gli accessi Sia per garantire una maggiore sicurezza agli scambi delle informazioni Le reti possono anche essere aperte, sia con accesso libero, bidirezionale Sia in entrata che in uscita E collegabili indefinitamente ad ogni altra rete esistente Lo scambio di informazioni avviene tramite una tecnologia che nel corso degli anni Si è andata sempre più implementando dal punto di vista delle prestazioni E lo sarà ancora più in futuro naturalmente con l'incremento tecnologico Questo ha portato a poter scambiare pacchetti di bit Ad una velocità sempre maggiore e sempre più corposi Dando la possibilità di trasmettere un flusso tale Da poter introdurre il trasferimento della componente audio Ma soprattutto la componente video nella trasmissione dei dati Componente video che tra l'altro richiede una quantità di dati imponente E tra l'altro sempre maggiore Quanto migliore è la qualità della componente video Oltre tutto il flusso degli stessi Oltre che essere rapido dovrà essere anche continuativo Al fine di garantire una ottima visibilità del video stesso Quindi rappresentarlo con una certa fluidità piacevole alla vista Attualmente in Italia una velocità dati Nelle grandi città e per un'utenza domessica Quindi senza parlare di aziende Si aggirà nell'ordine di 1 o 10 Mbps in download Tramite il doppino telefonico Naturalmente eccezioni e fibra ottica a parte La tecnologia in uso oggi è definita come ADSL Con varianti che sottolino Possono differire di molto in prestazioni da luogo a luogo E anche da dispositivo a dispositivo In base alle caratteristiche di uso dello stesso Ad esempio un motorino raggiunge la sua massima velocità Su una strada asfaltata Sia se essa possiede una corsia Oppure ne possiede quattro In sintesi la macchina computer Gioca un ruolo importantissimo Durante lo scambio delle informazioni Ossia le prestazioni della macchina computer Ma com'è costituita una rete? Brevemente immagina come fosse costituita A forma di nido d'api Ogni cella rappresenta un dispositivo Che è connesso ad un altro e ad un altro ancora Tramite un'interfaccia L'interfaccia è uno strumento che permette ai dispositivi Di dialogare e può essere diverso Tra un dispositivo ed un altro Purché le varie tecnologie però siano supportate Da tutti i dispositivi che compongono la rete In modo da garantire il flusso bidirezionale delle informazioni In modo da garantire il dialogo insomma Se vuoi parlare con un giapponese Con uno spagnolo Con un greco Potrai farlo solo per mezzo di uno o più traduttori Gli interpreti faranno in modo tale Da ampliare il flusso di informazioni diffuse Potendo così ritrasmettere l'un l'altro E fornendo a tutti i fruitori dell'informazione La possibilità di ottenerla in quel dato momento In sintesi, grazie a queste interfaccia Tutti possono entrare in possesso Delle stesse informazioni fornite E condivise da ogni singolo utente Che fa parte della rete Il collegamento fisico Tra i vari dispositivi Può avvenire con tecnologie diverse allora Purché ripeto compatibili Con coloro con cui si decide di collegarsi O di creare la rete Ossia a seconda dei dispositivi utilizzati Ti do appuntamento alla prossima lezione Per continuare il percorso didattico Sulle reti informatiche Ora un forte saluto Ciao a presto da Gallo e dalla prossima Ciao a presto Ciao a presto